Vedi, il fatto è che il mio lavoro non è poi malvagio, capisci? Alla fine c'è sempre qualcuno che paga. Lo trovo troppo... ...stancante. Oh no, è di tutto riposo. È quasi pacifico. Nessun bisogno di schierarti da una parte o dall'altra. Non sposi nessuna causa. Devi aver fede solo in te stesso. E fiducia nella tua precisione. Grazie a tutti.